Musica Allora, prendiamo l'editoriale delle 15 più o meno Cosa dobbiamo dire oggi? Oggi dobbiamo dire che stasera c'è la finale del terzo e quarto posto Per me mi ce l'Olanda, senza neanche discutere Perché gli olandesi hanno quel gioco a zona purificato E i brasiliani, secondo me, quest'oggi faranno figura di Atminkiam Come dicevano i latini Sta di fatto che, insomma, cari amici Il mio editoriale ha fatto scalpore Eppure io non sono un giornalista che sfonda Nel senso, oddio, visto il fisico Sono più paragonato a Romeo Benetti che a Gianni Rivera Però il mix, come diceva il buon Ereo Rocco Porta anche in porto il ballon Sta di fatto che gli amici coriziani adesso sono tutti subbuglio Sono tutti subbuglio perché Perché loro ci tenevano, no? La loro autonomia Vi dico questo Oggi ne sentirete delle belle Sia da destra che da sinistra Ascoltatemi, eh Non cambiate canale Perché adesso io vi metto la sigla finale Perché altrimenti qualcuno si è arrabbiato Veramente E vi dico questo E vi dico questo